E carissimi amiche, carissimi amici, buongiorno, figlio dalla macchina stamattina. Per il caso di Alice Neri un aggiornamento doveroso perché è arrivata la chiusura delle indagini e dalla chiusura delle indagini, come ovvio, c'è un solo indagato a senso unico, il Muhammad Galul, è solo lui. Però da questa chiusura delle indagini arrivano degli elementi importanti, come ad esempio quello della mostra della Alice Neri che non viene, stesso dai PM, non viene più collocata via Forella, ma viene collocata ai Laghetti lì e il delitto viene collocato fuori dall'autovettura. I capi di accusa contro il tunisino in sintesi sono l'omicidio aggravato con violenza sessuale e distruzione di cadavere, si legge, si regava all'Argine Sabbioncello dalle 4.04 alle 5.12, poi alle 5.15 si regava ai Laghetti di Fosse di Concordio dove volontariamente ne cagionava il decesso con colpi di arma bianca per poi distruggere il cadavere occultandone nel vano bagaglio e dandovi fuoco. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abbietti e in occasione di un tentativo di violenza sessuale nel corso del quale il predetto strappava il reggiseno della vittima al di fuori della vettura Ford Fiesta. Certamente si resta interdetti sentendo questo capo di accusa perché c'è questa ipotizzata violenza sessuale, questo strappo del reggiseno senza che peraltro ci sia DNA del tunisino. Comunque viene anche contestata la tentata estorsione con il revenge porn per carico di quell'altra amica, lo spaccio di sostanze superfacenti. Credo che questi altri capi di impurazione dovrebbero essere stracciati anche perché facenti capo ad altre vicende, anche qui, insomma, molto in discussione. Ora ci saranno 20 giorni di tempo per il deposito di atti, credo che lo farà l'avvocato Chini, come lo farà l'avvocato Ingroia, sicuramente. C'è un quadro cambiato rispetto all'ordinanza di custodia cautelare, ma molto cambiato. Quindi quello che almeno si rileva è la dinamica, cioè quello che ha sempre detto la dottoressa Caria Sartori, cioè penso che debba avere una grande soddisfazione a veder riconosciuto il fatto che il delitto sia avvenuto con una criminodinamica senz'altro fuori all'autovettura. Ricordo la dottoressa Bruzzone che invece era sicura del contrario, ma il fatto di rimente senz'altro è quella spallina, quella spallina ritrovata a 11 metri dall'autovettura era chiaro segno di ciò. Quindi va riconosciuta la dottoressa Caria Sartori di aver visto lungo, di essere lungimirante, quindi credo si sia preso una bella soddisfazione oggi con questa statuizione, è veramente una bella soddisfazione. Tanto è vero che c'è il comunicato stampa, di cui sinteticamente vi voglio dare lettura, anche se diciamo un po' in sintesi, il comunicato stampa della dottoressa Sartori che dice la relazione del medico legale e della procura ci ha consegnato dati che già sapevamo e sospettavamo, anche riguardo al ritrovamento di tracce di cocaina nel corpo della vittima e per le quali siamo stati oggetto di aspre critiche, poiché ritenuti responsabili di aver voluto infangare l'onorabilità e l'immagine della signora Neri, quando l'intento era solo di capire se potesse essere caduta in un pericoloso giro di stupefacenti. Per quanto riguarda il farmaco assunto per la nausea e il vomito, questo è importante anche questo passaggio qui, posso dire che la signora Neri mai aveva palesato al marito malesseri riconducibili a nausea o vomito né di esserne a conoscenza del suo utilizzo. Durante intagini difensivi abbiamo documentalmente potuto riscontrare che in quel periodo vi era una serie di preoccupazioni della signora Neri in merito ad una determinata circostanza che potrebbe forse spiegare l'utilizzo del farmaco in questione. riguardo alla ricostruzione della scena del crimine, da mesi diciamo che la signora Neri è in mostra ai laghetti e non in via Forella come in origine ipotizzato. Oggi la nostra versione viene ufficialmente confermata dai pubblici ministeri. Come pure sempre da mesi abbiamo sostenuto che la spallina del reggiseno trovata a 11 metri dall'auto fosse dirimente per una ricostruzione verosimile della criminodinamica che indicava aggressione e omicidio fuori dall'auto in un estremo tentativo di fuga da parte della signora Neri. Quindi a breve depositeremo, credo lunedì vedranno depositato il frutto del lavoro di indagine dei consulenti tecnici di pasta e di tutto lo studio legale in Croia perché siamo sicuri che queste indagini non siano ancora da chiudere. E l'ha dichiarato anche l'Avvocato in Croia. Lunedì ci sarà il deposito di questi ulteriori atti, ci saranno ulteriori novità. In questi 20 giorni vedremo cosa emergerà. Certamente non credo che cambierà nulla, per carità. Però è la prima volta, da quando io almeno negli ultimi 4-5 anni che mi occupo di casi di cronaca nera, è la primissima volta che mi capita di assistere ad un'inchiesta nella quale vi è davvero un senso unico e tanti elementi portano in altra direzione mentre invece a livello ufficiale se ne percorre solo e solamente una per la quale onestamente non si vedono grossi elementi di responsabilità. Lo stesso Avvocato Ghini rende delle dichiarazioni ieri e dice sono tutte ipotesi senza riscontro, ipotesi fantasiose, addirittura si ipotizza l'omicidio aggravato da violenza carnale quando non c'è nessun elemento che porta alla violenza carnale. In effetti è veramente una presunzione perché almeno che si conosca non c'è nessun elemento di questa violenza carnale né nessun elemento che porti allo stesso omicidio da parte sua né c'è alcun tipo di movente. Lo stesso Avvocato Ingroia dice questo è un omicidio premeditato, attenzione, va cercato altrove questa premeditazione visto che il Galul e Alicenete non si conoscevano. Questa premeditazione, questa rabbia non ha ragion d'essere. Poi lo stesso rinvenimento, dice l'Avvocato Ghini, della spallina del reggiseno, testimonianza di aggressione non porta il DNA del Galul. Ecco, un'aggressione per cui si dice strappa il reggiseno, strappa il reggiseno senza il DNA. ci sono due DNA di contaminazione e un terzo DNA parziale che comunque non è del mio assistito, dice l'Avvocato Ghini. Tutto è supposizione senza indizi di colpevolezza effettivi. Ovviamente si va in questa direzione, però certamente, amiche mie, consentitemi di dire che è del tutto sorprendente questa presa di posizione, come pure quella dell'Avvocato Zaccaria che di gara invece si aggrava sempre di più, si aggrava sempre di più la posizione. Però, con dati di fatto alla mano, ci troviamo di fronte a, probabilmente, diciamo ad un inizio poi di processo senza alcun tipo di prova. Alcun tipo di prova abbiamo soltanto che questo tunisino sale in macchina, come ha detto dal primo momento, poi non abbiamo altro. Ci sono mille dubbi che postano in altre direzioni e non vengono esaminate. Vedremo cosa succede, vedremo lunedì dal deposito del lavoro dell'Avvocato Ingroia, della dottoressa Sartori, cosa emergerà fuori. Emergeranno senza altre novità che dovrebbero portare in altra direzione, ma credo che la direzione sarà sempre quella. Quindi, per il momento è tutto. E certamente è da riconoscere oggi che la criminodinamica è quella che la dottoressa Sartori aveva detta dal primo momento. Cioè, un'aggressione ai laghetti, un'alice nera viva che giunge viva ai laghetti e lì viene sopraffatta da colpi di arma bianca al di fuori della macchina in un estremo tentativo di difesa. E questa è una dinamica compatibile con il Galullo. Molto difficilmente, a mio modo di vedere. Più facilmente sia compatibile con qualcuno che aveva qualche ossessione, qualcosa di grosso verso di lei. Ma qualcosa di grosso, veramente. staremo a vedere, staremo a vedere cosa succede in questi giorni e questo è tutto per il momento. Quindi vi lascio la buona giornata e, come dico sempre, un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao! Ciao! Grazie.